Start, 2, 1, Mission, and Liftoff! Una intro. Abbiamo il gioco gratuito, le sfide e il tutorial che faremo. Che cosa facciamo in questo gioco? Piazziamo gli uffici, piazziamo le fabbriche della nostra appunto azienda di produzione auto. Non è un gioco libero come avviene in Automation dove noi determiniamo ogni millimetro di ogni parte del nostro motore ma avremo dei progetti nell'arco di tutto il ventesimo secolo, un arco di tecnologie da sviluppare e poi portare sul mercato. Noi iniziamo il tutorial, ve lo faccio vedere. Si inizierà dalle prime auto, quindi parte abbastanza indietro. La traduzione mi sembra, così leggendo fabbricazione di automobili come traduzione del gioco, come una cosa fatta un po' così, però vediamo. Vediamo come funziona. Cioè, lo so già ma ve lo voglio mostrare dall'inizio, giusto perché non lo so giocare, quindi in quel caso. Andremo a vedere anche l'assunzione delle varie persone. Ora, abbiamo ricevuto il primo incarico. Cliccando qua andiamo a vedere che cosa dobbiamo fare. Dobbiamo produrre una qualsiasi auto. Dobbiamo imbarcarci nel nostro progetto, quindi andiamo qua sotto, cliccando lì, e andiamo a scoprire il primo progetto. Adesso è un'auto roadster di lusso del 29. Il nome è la Indy. La Indy One. L'hai comprata anche tu una Indy One? Sì, anch'io l'altro giorno. Messa in ordine, in pre-order. Allora, nome fantastico, sì, sì, sì. Dai, facci fare un giro dell'azienda. Muoviamo la telecamera, tenendo premuto questo, trascinando, con la rotellina ruotiamo. Quindi abbiamo una visuale a 360 gradi con anche, appunto, vedete, la possibilità di ruotare. Ingrandire la telecamera, vabbè, questa è la classica cosa dove andiamo da molto vicino a indietro. Dovremmo creare poi la catena di montaggio. Quindi andiamo in modalità editor e creiamo, vabbè, prima di tutto andiamo a fare pulizia. Quindi pulire il nostro terreno. In teoria potremmo fare anche altro, togliere anche gli alberi, volendo, ma... Mettiamo un edificio in mattoni. Quindi andiamo qui. Allora, scusate, qui. E qua in alto abbiamo l'edificio in mattoni. Dobbiamo farlo di almeno... 4x4. Sì. Facciamo così. Ma sì, dai, facciamo così. Mettere l'edificio in mattoni. L'abbiamo messo. Ora dobbiamo andare a mettere... Ok, basta così. No, 16x16. Quindi dobbiamo andarlo a espandere. Ok, così va bene. Mettiamo la porta. La porta è qua. E poi andiamo a mettere la stazione di montaggio. Quindi qua, dove vedete, ce ne sono diverse. C'è la cassetta degli attrezzi, gli strumenti di qualità. Cioè, bisogna anche il braccio di montaggio. Cioè, seguiremo l'auto. Pezzo per pezzo. Allora, vediamo un attimo. Per ruotare la Z e la X. Lo mettiamo così. Questa è la zona dove verranno montate le auto. Abbiamo il cancello che piazzeremo qui, dove l'auto uscirà e verrà parcheggiata. Connetti la stazione al cancello. Quindi con questo, vedete? Qua ci fa vedere che possiamo andare a piazzare la stazione di assemblaggio con l'uscita. Quindi in questo caso non l'ho piazzata proprio benissimissimo. Però, è quello che faremo, andare a connettere così. No? Progetto auto non selezionato. Ok, connette la stazione al cancello. Sì, va bene. L'ho messa al cancello. Lo facciamo così? Fai clic sulle frecce di vantaggio. Scusate, adesso vorrei Progetto... No, basta! Vorrei demolire tutto a sto punto e rifacciamo perché Progetto auto non selezionato. Non me lo fa, non mi fa fare niente di niente di niente di niente di niente. Allora, adesso. Manca il cancello alla fine. Ok, e il cancello dov'è? Adesso voglio vedere se riesco a demolirlo. Perché Demoli... No? No, non me lo fa fare. L'ho già buggato? No, ho fatto tutto e era andato tutto bene. Fai un po' a vedere. Eh, perché non è connesso. Ok, capito. Allora, costruisci questo. Eh, non me lo fa connettere. Porca caccia la miseria. Lo faccio a mettere un cancello anche lì. E poi fammi mettere una di queste che poi appena posso la demolisco. Così. Così e così. Ok, adesso me l'ha fatto fare. Ora, mettiamo il magazzinaggio. Sì, lo mettiamo qui. Quanto? Facciamolo così. Ok, quella lì poi la sistemiamo appena me ne dà la possibilità. Zona di stoccaggio che non è abbastanza. La vuole più grande. Farla più grande. Ok. Ancora più grande. Facciamolo così. Perfetto. E qua verranno montate le cose. Vedete? Qua abbiamo il bancale di stoccaggio che possiamo andare a mettere qui. Quindi dobbiamo metterne due. Mettiamone due. E lì monteranno i vari pezzi. Ora, impostiamo qualsiasi, qua sotto, progetto di produzione. Quindi praticamente vedete che cliccando noi possiamo andare a scegliere cosa produrre. E qua produrremo la Indie One. che verrà messa, cliccando qua, in produzione. Però per la produzione ci mancano delle cose. Ci mancano principalmente i lavoratori. Quindi adesso andremo a vedere. Cliccando qua abbiamo modo di andare a fare l'ordine delle componenti. Quindi clicca per creare l'ordine di manutenzione. E qua invia l'ordine. Vedete che ci sono tutte le parti che poi andremo a comprare. Questo è molto guidato, molto semplice. Però poi andando avanti potremo andare a personalizzare. Ora andiamo a vedere tutta la parte dei lavoratori. Quindi abbiamo modo di prendere in affitto, cioè assunti in pratica, noleggiare vari, in questo caso con vari stipendi e varie abilità, varie persone. Dovevamo assumere tre lavoratori. Io assumo quelli con livello 3 che costano un po' di più. E questi sono trasportatori. Ora cliccando qua andiamo a assumere meccanici. In questo caso uno, due e uno scarso che imparerà comunque col tempo. Diamogli tempo. Ora impostiamo su veloce e vedete che abbiamo tempo che va avanti, però ancora non è iniziato nulla. Preferisco rimettere normale. Ora dobbiamo andare a posizionare il parcheggio. Nel parcheggio verranno posizionate le auto che, 12x8 dice, le auto che verranno prodotte. Quindi in questo caso piazziamone una 12x8. Quindi 12x8. Ok, abbiamo il parcheggio. Ora non è finita perché, fatto la zona, dobbiamo andare a posizionare le zone. Quindi 3, 1, 2, 3. Quindi facciamo 1, 2 e 3. Tre parcheggi. E vedete che intanto i nostri trasportatori stanno iniziando a portare tutte le parti sui pallet. Ora dobbiamo produrre... No, produrre. Loro producono. Noi dobbiamo produrre altre cose. Quindi andiamo a scegliere l'edificio romano. In questo caso c'è stato sbloccato un altro tipo di edificio più bello, più caratteristico. E dobbiamo farne uno 12x12 che piazzeremo da quest'altra parte. Sarà l'edificio, probabilmente quello commerciale, 12x12. Andiamo a piazzargli una porta. la mettiamo un po' a caso. Ok, l'abbiamo messa la porta. Ne vuoi un'altra. Selezioniamo la porta. Questa. E la mettiamo di qua. Due porte abbiamo messo. Va bene. Ora mettiamo la zona di vendita. Questa è una zona dove deve essere 8x8. Dove praticamente venderemo le nostre auto. Perfetto. Avremo anche il banco di vendita da piazzare che piazzeremo qui e poi andremo a piazzare anche lo slot di vendita dove, eccolo qui, dove praticamente vedranno le nostre creazioni. Quindi in questo caso qua girerà un prototipo, ovviamente senza motore, dell'auto che staremo vendendo. Ora impostiamo le vendite. Clicca sulla zona di vendita e qua praticamente possiamo cliccare, quando arriveranno i clienti, anche sul cliente che abbiamo in negozio in modo da potergli offrire un caffè, poterlo intortare un pochino. Ora andiamo a posizionare il prezzo a più 90% in modo da poter guadagnarci di più e andare ad attivare la campagna di porta a porta di pubblicità. In questo caso vedete che lasciare uscire, insomma, è una traduzione un po' così, però questa è la Indie One, quella che produrremo in serie e che la gente vorrà sicuramente comprare. Ora qua abbiamo i venditori. dobbiamo assumere il migliore. Io do, beh, sono tutte abilità tali, quindi ne prendo uno che costa meno, prendo questo e lui andrà e venderà le auto. Starà seduto lì e venderà le auto. Vendi qualsiasi macchina. Ora, l'azienda apre, loro stanno iniziando, vedete qui, bellissimo da vedere, vanno assemblando l'auto, pian piano. Andremo poi a migliorare sempre di più questa catena di montaggio. Intanto stanno arrivando i clienti, presumo. Cliccandoci sopra, vedete che io posso offrire il caffè e gli aumento la felicità. Ovviamente, pensavo anche al fatto che un dollaro per un caffè nel 29 dovrebbe essere un caffè molto costoso. Comunque, qua li stanno guardando, vedete l'auto è molto bella, offre un caffè, siete tutti felici. Anche Victor Anderson non è un droghiere, sicuramente questa è un'auto che va per te. Tu invece sei un geometra, ti offro tanti caffè, così sei felice anche tu e la comprai di sicuro. Questo è il nostro venditore. Ti do un bonus se vendi, no. Però vedete che è bellino. Manda a riposare, invia per l'allenamento, insomma possiamo fare tante cose. Dobbiamo vendere l'auto, quindi acceleriamo i tempi. Intanto vedete quale stanno assemblando. A breve avranno assemblato la prima auto. e poi una volta prodotta la metteranno nel parcheggio e quindi l'auto sarà assolutamente pronta. Intanto stiamo andando veloci. Qui il nostro venditore sta presentando tutte le bellissime peculiarità della nostra bellissima auto nuova, anche se non è mai stata finita. Intanto stanno finendo. Non so a che livello siano. Completamento 79%, 85%. Ci vogliono 29 giorni per produrla e la qualità non la sapremo. Sarà disponibile a breve. Sarà la sportiva del momento a 295 cavalli. Ok, l'hanno prodotta, l'hanno portata lì fuori. Ora arriverà una buonanima, lui, che sposterà l'auto e la parcheggerà malissimo sul parcheggio. Almeno se non hanno cambiato sta cosa la parcheggerà come viene. No, invece no. L'ho parcheggiata bene. Va bene. L'auto è venduta. Ora è venduta. È prodotta. Ora bisognerà vedere la qualità. La qualità non lo sappiamo ancora. Comunque speriamo che il nostro venditore... Uh, siamo in trattativa avanzata. Questo tizio qui si sta mettendo le mani nei capelli, ma io gli offro dall'alto due caffè, tre caffè, quattro, anzi, in modo da... Ok. La negoziazione in partenza. La pazienza è buona. Vediamo se ce la fa. Il venditore non è professionale. Ah, molto male. Oh, ha venduta. Ha venduto l'auto, se la prende già. Guardi che non abbiamo messo l'olio. Ha fatto già la fiancata. Ma è felice. Dai un'occhiata all'albero tecnologico. Questa è un'altra cosa molto interessante perché vedete che qua possiamo andare a far progredire la nostra azienda dal punto di vista tecnologico e di altre cose praticamente acquistando delle tecnologie. e quindi in questo caso noi andiamo ad acquistare il numero massimo di dipendenti che possiamo assumere. In questo caso potremo costruire più slot di vendita, potremo costruire più stazioni di ricerca e poi potremo allargare e aumentare via via le stazioni di montaggio. In questo caso mi obbliga a fare questo. Quindi sblocchiamo la gestione 1. Quindi in questo caso andremo a poter assumere più gente. Tra l'altro qua c'è un ricercatore che non ho ancora. Andiamo a fare adesso la gestione 1 e possiamo assumere più dipendenti. Ora non so cosa mi voglio far fare il tutorial. Infatti ci farà fare l'edificio della ricerca. Infatti qua piazziamo un pannellino. Lo possiamo piazzare dove vogliamo ma lo vuole 6x6. Mannaggia non posso farlo all'esterno. Lo facciamo qua dai. 6x6 ci starà qui. 6x6 sono stato pessimista io. Perfetto. Ora andiamo a piazzare la zona di ricerca. La mettiamo tanto uguale è girata giusta quindi la metto così che mi piace il più da vedere e mettiamo uno slot di progetto di ricerca. Posizioniamo il banco che sarà probabilmente la mettiamo qui così. Abbiamo anche la fresatrice di ricerca il divano di ricerca e ci sono tante cose da fare. Adesso andiamo qui e impostazione di ricerca no dobbiamo cliccare qua ok praticamente qua ci permette di andare a ricercare quindi modifica e selezioniamo l'auto e andranno assumeremo un ricercatore uno dei più bravi questo qui che è livello 3 17 e 15 assumo questo tre ricercatori quindi assumo tutti quelli bravi perfetto i ricercatori inizieranno a studiare l'auto adesso non so che cosa faranno come miglioramenti però andranno sicuramente a migliorare se clicchiamo nella sezione aiuti abbiamo la spiegazione ve la faccio vedere un po' di tutte le funzioni di gioco quindi la modalità di costruzione gli edifici le aree la traversabilità il nastro trasportatore che vedete che poi ne potremo fare diversi la catena di montaggio e ci fa vedere come funziona la catena di montaggio che poi via via diventerà sempre più complesa sì in effetti dovevo fare al contrario forse sì qua sta facendo più produzioni vedete che sta andando a piazzare eh sì più stazioni andando vedete ad aumentare in questo caso quella quella tecnologia avremo modo di mettere più stazioni di montaggio ok il tutorial abbiamo l'abbiamo completato abbiamo venduto prodotto 3 auto vendute 3 progetti ricercati 1 e questo è la base del gioco abbiamo i grafici e gli obiettivi ora torniamo al menu principale vi faccio vedere in breve le sfide praticamente qui e potete andare scegliendovi la vostra il vostro nome della ditta e il logo e il logo a creare un gioco cioè praticamente con una missione con degli obiettivi di gioco mentre invece andando a fare nel gioco gratuito che non è il gioco gratuito sarebbe il free game il gioco libero non il gioco gratuito creare il logo della società la città tutte americane l'anno di inizio quindi si può partire anche andando partendo dal 60 l'albero tecnologico sbloccato la possibilità di fallimento e questo è molto bello e quindi andando a creare partiremo probabilmente presumo con delle tecnologie già avanzate in questo caso noi possiamo andare a pulire anche la l'introduzione vabbè sì questo lo so già possiamo andare a magari pulire un po' la zona vedete che abbiamo già un sacco di roba generatore di energia a vapore triturazione mantellamento officine di riparazione possiamo andare a piazzare anche gli edifici che abbiamo l'edificio di mattoni abbiamo appunto vi dicevo i generatori abbiamo i nastri dei trasportatori non abbiamo ancora queste abbiamo la creazione produzione di parti quindi possiamo autoproduci le parti ordinarle abbiamo lo stoccaggio abbiamo il parcheggio abbiamo tutta la zona vendita che avevamo già visto tutta la fase di ricerca tutta la fase dei dipendenti quindi per poter addestrare con i manubri con i sacchi da box con il cuscino da meditazione i flipper e tutte le varie cose il nostro personale e poi vabbè qua abbiamo vi faccio vedere anche qua sotto questo è i prestiti che possiamo chiedere il bilancio abbiamo il pannello di ricerca qua abbiamo un progetto che è una roster di lusso è la Indy 60 negli anni 60 e qua vedete che abbiamo anche la possibilità di evolverla non è bellissima questa cosa poi magari può piacere magari si sviluppa andando avanti ma sono tutti comunque dei progetti già predefiniti quindi non possiamo andare a creare da zero è un po' un peccato ma va bene qua possiamo fare la nostra solita ricerca dobbiamo produrre un'auto ad esempio farne due produrne due possiamo andare a sbloccare questo ramo in questo caso possiamo scoprire un progetto qualsiasi e così via e gli altri poi vengono da sé questa è la pubblicità dicevo come sta andando il confronto tra i vari prodotti e la disponibilità delle auto sembra anche piuttosto profondo dal punto di vista gestionale sarà da vedere poi come andrà avanti perché comunque il gioco è uscito il primo di agosto costa dicevo 19,50 scontato vabbè adesso 17,55 cambia poco rimarrà in early access perché è un accesso anticipato per circa un anno al momento i contenuti sono più o meno questi e hanno già dei contenuti sicuramente andando avanti da quello che dicono gli sviluppatori anche in base ai feedback che riceveranno aggiungeranno nuove sfide aggiuntive e nuovi eventi nella modalità del gioco libero vogliono continuare a perfezionare correggere i bug quindi il gioco è in divenire io spero vi sia piaciuto non è diciamo troppo della complessità ma può essere interessante per gli amanti di questo genere io sono curioso anche di sapere che cosa ne pensate qua sotto nei commenti scrivetemelo e io vi saluto e vi rimando a un prossimo video gameplay alla prossima ciao 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 a tutti i nostri spettatori